torna l'ottobrata zafferanese con la sua 42esima edizione quest'anno però in una veste rinnovata volgendo lo sguardo verso il mondo green con un'area esclusiva dedicata al gluten free un evento dedicato alle primizie stagionali arricchito da un intenso programma di intrattenimento con chef d'eccezione che deliziano i visitatori con degustazioni e cooking show protagonisti delle domeniche d'ottobre i prodotti tipici dell'etna tra i quali è possibile apprezzare l'uva locale il miele i funghi porcini dell'etna le castagne e il vino tra le attività previste si organizzano escursioni naturalistiche presso i luoghi più caratteristici del territorio mostre fotografiche giochi e animazione per bambini e le esibizioni di artisti di strada e dei gruppi folkloristici per tutte le domeniche del mese la manifestazione si snoda da gazza della regione siciliana fino a via roma per poi raggiungere il trionfo dei sapori in piazza omberto l'ottobrata sarà facilmente raggiungibile grazie a cinque grandi parcheggi dislocati in punti strategici attorno a tutto il perimetro del comune di zafferana etnea ciò consentirà i visitatori di lasciare con calma e senza stress il proprio mezzo e salire a bordo dei bus navetta che li condurrà direttamente a pochi passi dagli ingressi della manifestazione dopo due anni di stop a causa della pandemia di una delle manifestazioni più apprezzate del sud italia l'ottobrata di quest'anno si apre con la scommessa degli organizzatori che la 42esima edizione dell'ottobrata zafferanese sarà in assoluto la più ricca di sempre